ragazzi qualcuno video ti faccio vedere il video dell'unboxing del pacco avon della campagna 1 e della campagna 2 messi insieme perché ho avuto dei problemi con questo pacco dovevo saltare comunque una campagna e quindi ho fatto due campagne insieme e questo è quello del catalogo della campagna 1 della campagna 2 non ce l'ho quindi adesso lo apriamo subito insieme qui ci sono come sempre i vari anteprime le varie anteprime e se riesco vi faccio anche un video anteprima allora sono così sono cataloghi della campagna 2 che però è già passata perché mi sembra che siamo nella 3 vediamo se se ci sono anche i cataloghi della 3 si qui ce n'è uno e ce ne dovrebbe essere altri qua sotto poi sono questi sono due creme taglia xxl da 750 ml sono creme per il viso per le mani per il corpo viso mani corpo e a spunti usano questo erogatore molto molto comodo e le ha preso una mia madre e una mia zia poi c'è queste qui che è una crema per il viso alla pappa reale c'era un kit che ho preso io per le presentatrice era questi che la crema per il corpo questi che la crema il burro corpo fa per le mani e ci dovrebbe essere anche per le labbra se non sbaglio però adesso che non lo trovo quindi queste sette qui tutti quanto la pappa reale poi non mi cliente ha preso questi che sempre reali per le mani basta la pappa reale per le mani poi c'è questi che invece delle new ed è una cipria compatta nella colorazione nude beige poi questa che è una un pettine dell'avon techniques semplice pettine per i capelli ancora in taglia super grande queste da 150 ml questi che è la crema per i piedi trattamento per talloni screpolati ed è super grande e poi questi sono due rinforzanti per le unghie che hanno preso due miei clienti separate uno nella colorazione share bronze questi sono delle basi per unghie che però non colorano hanno diciamo un leggero colorino adesso li vediamo insieme se riesco a aprirli sulle unghie risultano quasi trasparenti insomma questa appunto è la colorazione share bronze wow non me l'aspettavo fosse così mi sa che credo che sia quasi abbastanza coprenti mi sembra io pensavo che era più che fossero più chiari siccome uno non questa colazione ma quest'altra qui che è share love l'ha presa mia zia adesso io gli chiedo quando la prova come è e magari vi metto un'annotazione sul video così almeno vi faccio sapere se è molto scrivente o no vediamo appunto questo qui share love questo è della stessa linea per le shine era advanced expert per le shine vediamo ma questo non è non è brillantinoso come quell'altro questo è molto molto più liquido come smalto vedete quindi penso che questo sia molto più chiaro che quello lì questo qui share bronze sono strani con queste colorazioni comunque a quanto so sono basi per unghie non smalti colorati comunque vi faccio sapere e poi c'è beh qui delle volantini presentatrici questo siccome hanno fatto tutti i nuovi prodotti adesso dell'avono li hanno messi hanno cambiato nome praticamente sono tanti questi prodotti mark sono semplicemente gli stessi solo che cambia il nome e qui hanno messo tanti insomma i prodotti con il nuovo packaging poi sempre per le presentatrici ah e poi ho preso questi che sono del degli adesivi per unghie e hanno varie forme sono così assaetta se riesco a farvi rivedere che non me ne metto a fuoco questi assaetta poi ci dovrebbero essere ondulati e varie forme che vedete sicuramente in qualche video nell'art con l'occasione che vi faccio vedere per bene questi adesivi per unghie che secondo me sono davvero pochissimi sono presente 20 per ogni tipo sono assaetta qui a ondulato e a zig zag e mi corrego che questa è la campagna 18 io ho saltato quella 1 quindi prossimamente vedete l'unboxing della campagna numero 2 perché ho fatto la 18 la 1 insieme e non la 1 e la 2 e poi basta questi sono i cataloghi della treccoli qui sotto sempre questi sono dei cataloghi per la casa supplementi di cataloghi e poi dei campioncini di primo che ho preso io e questo è tutto il contenuto del pacco che non era tantissimo spero comunque visto di qualche modo vi mando un grosso bacio al prossimo video ciao